professore il miuro e propone corsi di esorcismo ai docenti cosa ne pensa se lì è già stato chiamato a cagliari o nell'interland sì anch'io ho sentito la notizia penso che sia una cosa una cosa utile una cosa utile perché le esigenze che ci sono indubbiamente importante la formazione dei docenti ancora non sono stato chiamato per eventuali corsi ma questi corsi nel caso verranno istituiti dalla diocese in quanto noi insegnanti di religione siamo direttamente seguiti da un incaricato del del vescovo quindi saremo sicuramente interpellati da lui però io ho un dubbio mi aiuti prima di chiudere questa intervista questa chiacchierata lei l'altro giorno mi ha benedetto prima di entrare in classe subito dopo mi è volato il cellulare dalle mani si è rotto il telefono non sarà perché sono un po seduta perché forse non credo ma oddio bisogna sempre staccare un po quelle che sono gli avvenimenti occasionali dubbiamente può essere stato un caso il fatto che il cellulare si è volato dalle mani e dobbiamo pensare che la benedizione parla bene delle persone fondamentalmente noi dobbiamo saper parlare bene degli altri e automaticamente ci benediciamo grazie gentilissimo professore prego